Il logo che ho ideato si ispira al significato della parola panorama, però questa volta non inteso come globo terrestre, ma bensì come uno skyline, quindi un paesaggio molto contrastato che diventa una sorta di semplice linea che si staglia su uno sfondo bianco. Quindi questo panorama prevede tutti i monumenti, o comunque una gran parte, dei monumenti appunto di tutto il mondo, perché il panorama comunque parla di tutto il mondo, di tutte le notizie. La copertina che ho ideato è una copertina che si ispira a un'opera del graphic designer francese Fabien Barrel. La sua opera più che altro è una sorta di sticker per le pareti. Nel momento che io ho un trascorso di interior design, ho deciso di puntare e riprendere questa sua opera. Riprende totalmente la griglia di questi stickers, la mia copertina, e per quanto riguarda il font utilizzato invece richiama tutte quelle vecchie pubblicità che andavano ad affissione molti molti anni fa. Per quanto riguarda invece appunto il proprio lo stile del font, è uno stile quasi militaresco. Grazie a tutti.